Revisioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Revisioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita.